Era il 17 aprile scorso, cioè dire quattro mesi, otto giorni fa, quando Gela si strinse attorno alla propria squadra di calcio al fine di conquistare la Serie D. E conquista fu, dopo un campionato esaltante, un testa a testa con la rivale San Cataldese, gli uomini in biancazzurro ottennero la promozione. Finalmente il Gela Calcio prodava in un torneo semiprofessionistico, dopo quattro esaltanti salti di categoria consecutivi. Oggi, a distanza di quattro mesi e otto giorni, tutto finisce e a quanto pare definitivamente le nubi denze delle ultime ore hanno prodotto burrasca. Oggi, infatti, il consiglio di amministrazione del club di Vieniscemi, presenti il presidente Francesco Duccio, i consiglieri Lucio Antona e Gidio Alma, ha deciso di mollare. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è riconducibile all'inadeguatezza dello stadio Vincenzo Presti di Contrada Giardinelli, che ha determinato, oltre gravi danni sportivi, anche gravissimi danni finanziari a causa del fallimento totale della campagna abbonamenti e delle sponsorizzazioni, in quanto nessuno, si legge in una nota della società calcistica, è in grado di dare risposte certe a quanti chiedono rassicurazioni che il Gela giocherà al Presti le partite casalinghe. Comprensibile è noto a tutti che i tifosi gelesi soffrono maledettamente gli attacchi d'ansia. Analizzata dunque la situazione generale e in primo piano quella dello stadio Presti, i cui lavori sul manto erboso non sono ancora cominciati, con le conseguenze sportive ed economiche che si stanno riverberando su questa stagione, hanno avuto un ruolo determinante nella decisione presa all'unanimità di lasciare il calcio. Chiunque volesse prendersi carico e cura del Gela, sostituendo in toto l'attuale proprietà, può farlo attraverso il sindaco al quale verranno consegnate le chiavi della società. Se malauratamente non dovesse verificarsi nessun avvicinamento in seno al club, già a partire dalla prima gara di campionato prevista per domenica 4 settembre, il Gela non si presenterà fino alla radiazione. I tifosi che hanno già acquistato l'abbonamento saranno rimborsati e tutti i giocatori sono liberi di trovare un'altra squadra. Chiediamo umilmente scusa a tutti i tifosi gelesi, chiude la nota del club. Oggi probabilmente, anzi quasi definitivamente, Gela ha perduto un patrimonio, la propria squadra di calcio.